Ciao, ciao, ciao! Lo sai che i miei escono al mattino senza mangiare niente? Anche mio marito! E allora eccovi Kinder Brioche Cappuccino, la nuova deliziosa brioche. Si intinge nel latte per una colazione sana e completa, perché in Kinder Brioche Cappuccino ci sono anche i cereali, il latte, il malto, il cacao e il caffè. Tutto per darti lo slancio giusto del mattino. Kinder Brioche Cappuccino, lo specialista della prima colazione. Dalla Ferraero Kinder Division.